La Notte dei Saldi ad Arezzo è iniziata così, con un simbolico taglio del nastro che ha dato inizio alla dodicesima edizione di Shopping sotto le stelle. Sì, è una giornata importante, fra virgolette la ripartenza, oggi è la giornata dei saldi in tutta Italia, comunque in Toscana, hanno ripreso la loro naturale scadenza, questo comunque è già un segnale molto importante. Ovviamente convivono come tutti gli anni con la Fiera Antiquaria che per la prima volta ritorna in centro storico, già da stamani mattina abbiamo comunque visto che ci sono diversi movimenti, soprattutto nell'abbigliamento, nei negozi anche per bambino e comunque vada insomma, diciamo che le persone si sono mosse, c'è voglia comunque di uscire. Centinaia di negozi che sono rimasti aperti sino a mezzanotte per celebrare l'inizio degli sconti estivi. Una serata di ripartenza per l'intero centro storico, con le principali arterie cittadine, protagoniste dello shopping e degli eventi, chiuse al traffico da via Roma a via Crispi, da via Mazzini a via San Laurentino. Sì, una giornata piena di impegni, la Fiera a fine della mattina, si shopping sotto le stelle, musei aperti, quindi una bella giornata supportata anche dal meteo, cosa che quando c'è la Fiera non è così scontato, quindi molta gente al giro, molti turisti visti in città, quindi diciamo che le prospettive sono piuttosto buone per questo weekend. Ma non solo shopping, è stata anche una serata all'insegna del gusto, con i tavoli all'aperto e tante iniziative speciali ed infine spazio anche alla cultura.